Ben tornati nel canale DIYteam Salve tutti i cali ucrumi E allora siamo qui con Alessandro Moncori Cosa hai fatto Alessandro Moncori? 4-1 con il best deck Hai chiuso? Cioè dove hai fatto 4-1? Allo DSG Championship Hai chiuso al secondo posto Oh guarda 4.500 di pese c'è Hai giocato? Scusa non ho visto Non credo però Infatti non è Skystrike Prego signor buon cuore Ci mostri la lista Del suo poteroso mazzo competitivo Allora questo è più o meno la lista Che porterò a dormire Non me perché ho mai a voi stronzi Allora partiamo Chiaro che sto a un video pre-band Allora Tu mannaggia al tuo dio In mezzo le carte le devi mettere In mezzo all'ancoratura Voi sapevo che hai fatto la profile tu? Cucina iniziavi No 3 Raiden 3 Medlove 3 Medlove Monopandera per X&A Hai pensato di giocare 2 Medlove? Per un po' di tempo Beh dipende Giochi Prosperity Ci può anche stare 3 Burger È forte il tempo? Sì è molto forte 2 Cesari Sì E un plutonio Ok L'unica accorgimento della lista Che molti non giocano È o la terza Medlove O il plutonio Però secondo me è troppo forte Perché tante volte serve Dai zitto polco dio Non serve a un cazzo Serve per non fare tutti i k Però serve perché C'è questo Questo cosa qui si chiama fuoco Il plutonio fuoco E quindi insomma Con Reza mi sembrava buono Departo mostri Non engine Cioè sempre engine Però non è morti vanguish Carta vanguish più forte Carta vanguish più forte Ok Poi passiamo con Rysart Sì Che è forte perché fai rango 4 generico Fortissimo Certo Trash Sì Ah sono fuoco Sono fuoco? Wow ma sono forti su Brand Fusion? Pone a Brand Fusion? Eh no perché manda 2 Ah ok Quindi non lo puoi fare Ah 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 Ho tirato oggi tipo 5-6 orde, fortissimo Curicardio è un dinosaurio Niente Curicara come mai? Niente Curicara perché Allora in teoria A parte quello, Cartira diciamo non lo so Perché tutte le carte Cartira più o meno targhettano E comunque Perché non le hai? Perché non le hai? Dai, schippa veloce Spell D'archetico, hai due continuare Sì, why due? Perché è troppo forte Cioè nel senso a grind ti serve la seconda Se no Mad Love dopo diventa una carta morta E non puoi comunque metà effetti Non puoi fare niente quindi Per me due essenziali Chi può stare Quella che è fortissima Fortissima lei Finite le carte Vanguish Stake your Vanguish 3 Stake La miglior carta da giocare di Mad Love Se queste non sono carte Vanguish Porco di Dio Poi passiamo da Le quattro mono più forti che ho giocato quest'oggi sono Roda Peppiata Gedroll Small World Peppiata Gedroll Desire Peppiata Geash Peppiata Gedroll Perfetto Una Desire Che sai pare di Sterre Mode 2 Comunque Sembra di Sterre Mode 2 Ma c'è stato un senso logico Per giocare queste che non mi starò a spiegare Perchè mi sono ottenuto io Lo steve io Lo steve io lo scendo Perchè abbiamo fatto insieme Eeeh Once per turn, once per turn, once per turn Once per turn Non mi piace un cazzo Tante volte ne pescava due Due, due, due Mi cibur ha aperto Co tesare prima Perché ti piace un gol Perché rotano una tre Perché mamma è da morte Mi associo Ne gioco più di tre Amoroso Tre in verma E tre Il fatto che siano Terima verità diversa Siccome presidente Quando uscì mi ha detto Guarda Perché almeno Già ha una consistenza Diversa E poi staccarle meglio capito? per questo extra deck potrei fermarmi alla quattro manco un linguno è perso un linguno che procio 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 si va bene poi oggi ho fatto lui dweller con me dweller basta e Zeus fatti il linguno vabbè poi le 12 carte che banni venice, cerbero lui fortissimo lui perché gioco la tech grazie a Smyr Tiravassi che mi ha consigliata bella tech mi piace che schifo mettici mettici l'altro Floyd che è vicino per favore ok l'unico motivo per cui sto mazzo vince partite godopo non lo evoco mai però vabbè gente secondo Baguska eeeh 2 Zoiak fatto oggi contro Sprite Runic Moschettiere si e vabbè lui lo abbiamo detto Zeus Ultime perché è bellissimo e 2 Target The Slayer la Secret Hedge ci sta ci sta vada con la side per favore gioco due magna molto undruism perché a dare lui è forte contro Ungeyned e in generale per qualche motivo Cesare Drago e lui perché soffra d'Espia ho trovato la carta fortissima contro l'Espia forte contro quel cazzo di Runic del cazzo che spiega la combo di Kondaxi allora la combo di Kondaxi è attivo spell Runic per evocare attivo Kondaxi perfetto ma non so perché gli rispondete ma non so perché gli rispondete ma non so perché gli rispondete infatti Pangra mai visto però è terra ed è forte prima lo riveli e poi l'Ultusiali esatto specialarlo esatto 3 Slayer per me è la carta come mai come mai questa carta come mai hai deciso Slayer ho deciso Slayer perché siccome l'extra deck allora questo mazzo soffre le carte che non targhettano quindi Despia mi caga in gola e quindi ho detto rimbalziamo Mirror Jane in qualche modo e è stata questa qualità di rimbalzare Mirror Jane se Mirror Jane non avrà capo se ti fa red se ti fa red ah certo tu puoi rispondi a questa sì ma ho col fatti è mostro ok fai red 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 jmiro ok piuttosto che auto perde sì effettivamente è vero Cosmic Revely ok mai tirata tirata una volta mai tirata fortissimo mai tirati mai tirato non hai spiegato più che altro gioco a Endis non gioco a Riser riporto cos'è meno triggerammi in oggettinello e perdere sì se ti riporta due red allora ho fatto game 1 contro drago der can bella carta forte e vinco 2 a 1 perché burger vince al tempo facendo 1.5 g2 prendo lorenzi jacobini che gioca la castira mi fa un bucio di quello così no no un secondo un secondo c'ho la foto c'ho la foto è vero facciamo sono stati immortalati delle foto abbastanza assurdo ce la faremo ecco ce la faremo non si vedrà mai non si vedrà mai se si mette in orizzontale ok questo è perché ha perso come vedete qua grande allora lui vedete no aspetta la sua faccia per prima ok bene due der can bella der can bella bene due cosmic bene due cosmic sotto shifter questo è il g1 il g2 proprio fotografico il g1 g3 becco becco grazie mi fanno g3 mi fanno g3 aspe allora becca l'angene vinto da 0 poi in turno 4 peccato sprites runic moschettiere moschettiere ho vinto da 1 ultima contro dopo contro dragon link hai vinto contro dragon link bravo è forte è forte questa figurina se la ritrovo cosa dici quella figurina questa figurina dice aspetta tu vorresti avere un mazzo mi sa di no e niente tutto qua bravo ciao 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 Ciao.